Amici a casa, siete pronti a scatenarvi con un po' di musica? Allora fate spazio nel salotto, alzate il volume della TV al massimo e provate a tenere testa a questi cinque ragazzi a colpi di musica breakdance dall'Ungheria, i Possession Crew! Sous de alguna e. E ora, secondo lo schema tipico delle esibizioni di breakdance, è il momento delle figure a terra e ne vedremo delle belle. E ora, secondo lo schema tipico delle esibizioni di breakdance, è il momento delle belle. Rock this morning, dance everybody, make it hot in this morning, don't stop with your worries. Rock this morning, dance everybody, make it hot in this morning. Rock this morning, dance everybody, make it hot in this morning. Rock this morning, dance everybody, make it hot in this morning. Rock this morning, dance everybody, make it hot in this morning. Rock this morning, dance everybody, make it hot in this morning. Questi cinque ragazzi ventenni vengono tutti da l'Ungheria e sono una crew, cioè un gruppo di ballerini di breakdance. Questa disciplina di ballo si è sviluppata alla fine degli anni 60 tra le comunità giovanili afroamericane di New York. Poi negli anni 80 è esplosa in tutto il mondo diventando un vero e proprio fenomeno culturale. Poi negli anni 60 tra le comunità giovanili. Ma non si fermano più! Devo dire che ne hanno davvero conquistato con la loro bravura e la loro infinita energia. Salutiamo con un grande applauso il Possession Q!